ho ottenuto una bella risonanza in questo modo utilizzo il generatore di segnale per produrre un'onda quadra applico il segnale quindi il segnale è l'ampiezza e 4 volte il quello che esce dal generatore di segnale beh viene visualizzato la traccia di sopra la traccia gialla e lui dice che volt picco picco 5 volte e viene applicato al primario del trasformatore toroidale realizzato secondo le specifiche di stanley meyer poi questo viene l'uscita secondario di questo trasformatore viene applicato alle due induttanze accoppiate con il con il nucleo di graffite percorse nel senso opposto nel senso che devono essere antiparallele le correnti rispetto al senso in cui sono involte comunque secondo lo schema di stanley meyer e il secondario e all'uscita di queste due induttanze c'è ci sarebbe collegato il condensatore la cella con dentro l'acqua e io ci ho messo la sonda azzurra il segnale azzurro ora la cosa notevole è che andando chiaramente bisogna andare a cercare la risonanza e la risonanza cambia per esempio stesso circuito ma pilotando direttamente le due induttanze la frequenza è 2440 in questo caso aggiungendo questo trasformatore la frequenza di risonanza comunque cambia e diventa 2900 dunque 2710 e il coefficiente è notevolissimo cioè il segnale viene amplificato da 5 volt a 293 volt in questa configurazione e le sonde del le sonde dell'oscilloscopio sono tarate cioè segnano la corrente segnano la tensione correttamente cioè è un fatto del tutto reale quindi questo tipo di circuito provoca un amplificazione della della tensione notevolissimo con l'onda quadra perché con un'onda sinuso ordinale già sarebbe differente